Floridia ha beccato spacciatore con il pollice verde, i carabinieri sequestrano una mini serra. Dopo gli arresti operati nei giorni scorsi fra Floridia e Priolo, ieri un altro sercusano, Massimiliano Mangiafico, 22enne, gravato da numerosi precedenti per reati in materia di droga, è stato trattato in arresto in fraganza del reato di produzione illecita di sostanze stufofacenti. Proseguono i servizi antidroga condotti alla tenenza carabinieri di Floridia. I carabinieri si sono insospettiti dopo una serie di acquisti tipicamente da giardinaggio effettuati da Mangiafico che aveva pensato di aggirare l'illecita filiera di distribuzione della marijuana coltivando direttamente le piante necessarie per la produzione dello stufofacente. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno infatti scoperto che un'intera ala dell'abitazione era stata adibita a serra, equipaggiata di tutto punto con vasi colmi di terra, ventole per l'ariazione, lampade per simulare la luce del sole, essiccatoio, termometro per misurare la temperatura della stanza, liquidi e concimi specifici per le piante di cana pendiana. Non poteva mancare anche un banco da lavoro per trattare le piante raccolte e una bilancia di precisione necessaria per confezionare le dosi da spacciare. Nel corso dell'operazione sono state rinvenute e sequestrate 24 piante alte un metro che presentavano già le infiorescenze pronte per la raccolta e due barattoli contenenti 50 grammi di marijuana. Tutto il materiale, le piante e lo stufofacente sono state sequestrate e l'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria in regime di arresti domiciliari. Grazie.